È ora di cercherà. Devo raggiungerla. Scusi. Sì. È da molto che aspetta? The Lady l'ha già ricevuta? No. Ma mi hanno detto che vale la pena di aspettare per vederla di persona. Io vedo tutto, al cinema e alla tv. Visualizzo, viaggio per il mondo. Sono stato anche indietro nel tempo. Non mi disturbi, le persone che sanno troppo mi annoiano. Oh, grazie per il complimento. Arrivederci. Arrivederci.